La liberalizzazione in Italia sulla carta sono andate abbastanza avanti, quello che manca è l'applicazione di questo concetto di liberalizzazione. Per rimanere nel campo ferroviario, che è quello che mi riguarda, noi siamo dal punto di vista legale uno dei mercati più liberalizzati. L'Inghilterra più di noi, ma nell'Europa continentale noi siamo sicuramente avanti a tutti gli altri paesi. Perché la liberalizzazione però possa attuarsi effettivamente occorre che si esca fuori da un sistema ferroviario a carattere generale, quale è il nostro, e si vada verso un sistema ferroviario dove lo Stato e le regioni negozino con coloro che fanno servizio ferroviario, noi o anche altri che si dovessero presentare, dei contratti di servizio per tutta quella parte, di servizi che non hanno una capacità di finanziarsi sul mercato. Se si fa questo, cioè la definizione del contratto del servizio universale, nazionale, dei servizi di carattere locale, allora la liberalizzazione del nostro paese si può attuare perché significa che avremo concorrenti che operano con le stesse condizioni. Noi non rinunciamo assolutamente a niente, se c'è qualcuno che rinuncia sono i cittadini. Noi seguiamo le scelte dei clienti. In tutti i paesi del mondo i clienti, cioè i viaggiatori, per le lunghe percorrenze vanno piuttosto sugli aerei, mentre prevediscono il treno sulle concorrenze intermedie, all'ordine 3, 4, 500 chilometri. Questa è una tendenza talmente forte che, per fare un esempio, la Francia, un paio di mesi fa, ha abolito tutti i treni notturni, proprio completamente, mentre noi continuiamo a farli. E quindi è ovvio che noi dobbiamo adeguare la nostra offerta di lunghe percorrenze a quella che è la reale domanda. Essendo una reale domanda molto più bassa, dovremmo avere un'offerta molto più bassa. E questo non è regalare niente a nessuno e seguire il mercato. Innanzitutto l'aumento del 15% riguarda un segmento molto piccolo della nostra offerta, riguarda il meno del 20%. E quindi è ovvio che non può essere questa la soluzione. Noi stiamo riportando i prezzi del trasporto sui treni a quelli che avrebbero dovuto essere i livelli se non ci fosse stato per sei anni un blocco dei prezzi. Quindi stiamo recuperando il passato che ha creato dei buchi finanziari dentro questa azienda. Dopodiché se noi potremmo adeguare questi prezzi avremo anche le risorse per poter adeguare meglio i treni che sono disponibili per la gente. Per quanto riguarda la manutenzione non c'è dubbio che la facciamo comunque, anche se non abbiamo le risorse. Questi sono progetti infrastrutturali che datano da decenni e continueranno perché la Torino-Lione è qualcosa che riguarderà i prossimi 20 anni e sono convinto che non porterà nessun ritardo. L'Italia ha avuto per lungo tempo una crescita senza occupazione perché avevamo un mercato del lavoro molto rigido, anni 70 e anni 80, che di fatto costringeva le imprese a economizzare il lavoro e a investire moltissimo sul capitale, macchinari e quant'altro. Con le riforme e i comportamenti susseguenti degli anni 90, ricordo l'abolizione della scala mobile, il nuovo contratto di lavoro, il pacchetto 3U, noi abbiamo reso il mercato del lavoro italiano molto più flessibile. Questo ha significato che ogni percentuale di aumento della produzione aveva un contenuto di occupazione maggiore e questo è quello che si è verificato negli anni 2000 quando la produttività è cresciuta. Dato che la crescita è stata anche molto bassa, l'economia ha avuto una stagnazione in quegli anni, questa minore crescita si è tradotta in minore produttività. Per questo io credo che l'obiettivo della politica italiana non sia tanto di crescere la produttività perché se no rischiamo di reintrodurre un mercato del lavoro rigido e di avere sempre bassa crescita, ma quella di avere una maggiore crescita. Se l'economia italiana crescesse al 2-3% l'anno, allora anche la produttività crescerebbe e crescerebbe anche l'occupazione e questo credo sia l'obiettivo del Paese. La contrattazione di secondo livello e soprattutto la contrattazione legata ai risultati di impresa ha fatto un suo timido ingresso nel nostro sistema in relazioni industriali a partire dall'accordo del 1993. Io credo che l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che bisogna spostare la contrattazione verso questi segmenti, quindi sul contratto aziendale piuttosto che su quello nazionale e su un contratto che faccia partecipare i lavoratori a quelli che sono i risultati dell'azienda. Mi auguro che si vada in questa direzione, so che le parti sociali si dovranno vedere nelle prossime settimane, spero, e credo che sia interesse di tutti, in particolare dei lavoratori, quello di avere una retribuzione che possa seguire l'andamento dell'azienda, quindi che sia in qualche maniera adeguata agli sforzi che loro stessi fanno.